Atletic Club è un centro sportivo all'avanguardia adatto a tutti, con uno staff di istruttori qualificati per scegliere insieme le attività più idonee per il vostro fisico, consigliandovi al meglio al fine di ottenere la forma fisica che desiderate. La palestra si estende per circa 1300 metri quadri, consulenza personalizzata, macchinari tecno gym di ultima generazione, istruttori certificati FIF e CONI, personal trainer, area relax con sauna, area bambini, due sale pesi e cardio fitness di 550 metri quadri con attrezzi e macchinari tecno gym, 36 postazioni cardio fitness e 64 isotoniche di ultima generazione, una sala fitness di 250 metri e una capienza di 50 persone per le lezioni di gruppo in musica.